l'attività politico istituzionale. Antonio Iannone, neo-senatore della Repubblica, pur preso da un'attività politica impegnativa quanto mai che assorbe molta parte del lavoro settimanale, non dimentica il collegio vastissimo che lo ha scelto per essere rappresentato. Il neo-senatore esprime alcune sue valutazioni sulla politica nazionale e locale esprimendo giudizi e valutazioni su politici e partiti politici. Si lavorerà che il centro-destra sia compatta in questa campagna elettorale? Noi di Fratelli d'Italia abbiamo l'orgoglio di dire che siamo gli unici che testimoniano con una coerenza, un'appartenenza all'area di centro-destra perché non si può sottacere che Forza Italia nella scorsa legislatura ha avuto un atteggiamento ambiguo con il PD attraverso il patto del Nazareno e la Lega ha formato un governo con i 5 Stelle che è una configurazione diversa rispetto a quello che i cittadini hanno trovato sulla scheda. La nostra leader, Giorgia Meloni, è stata sempre una sostenitrice dell'unità del centro-destra pagandone anche un prezzo per alcuni giudizi storici che sono stati espressi. Aspiriamo anche ad una rappresentazione che sia coerente a quello che è il sistema politico che vorremmo realizzare. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia come è sempre stato nostro costume noi diamo autonomia di scelta ai nostri rappresentanti locali naturalmente in un quadro di ragionevolezza complessiva e di praticabilità di determinate ipotesi. A loro sta l'onore e l'onere di trovare queste soluzioni. A noi sta il dovere di essere al loro fianco perché rappresentano la nostra comunità politica. Grazie a tutti.